I sacerdoti siano gioiosi e guardino con gli occhi di uomo e con occhi di Dio, con cuore di padre e di maestro, come ha fatto San Giovanni Bosco, che oggi la Chiesa celebra. Così Papa Francesco ha la messa a Casa Santa Marta, in quell'epoca massonica di Mangiapreti, dove i poveri erano realmente lo scarto, Don Bosco ha visto quei giovani sulle strade e si è commosso. Ha pensato modi per farli maturare, non si è avvicinato solo con il catechismo, ma anche con la loro vivacità e li ha fatti giocare come fratelli, ha pianto con loro e li ha portati avanti. E qual è il segnale che un prete va bene, guardando la realtà con gli occhi di uomo e con gli occhi di Dio? La gioia. 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 Quando un prete non trova gioia dentro, si fermi subito e si chiede perché. E la gioia di Don Bosco è conosciuta. È il maestro della gioia. Perché lui faceva gioire gli altri e gioiava se stesso e soffriva se stesso. Chiediamo al Signore per l'intenzione di Don Bosco oggi la grazia che i nostri preti siano gioiosi. Gioiosi perché hanno il vero senso di guardare le cose della pastorale, il popolo di Dio con occhi di uomo e con occhi di Dio. Grazie. Grazie. Grazie.